Anticipazioni. Endless love. Galip si oppone alla richiesta di Emir di restituire le chiavette. E Gili promette che troverà chi sta dietro il ricatto. Kemal, che sta osservando la situazione, telefona a Niyan per dirle che vuole recuperare le chiavette e scoprire finalmente la verità, su quella notte drammatica che ha segnato le loro vite. Kemal si dirige quindi in un quartiere malfamato per chiedere aiuto a Zeyr. Nel frattempo, Zeynep confessa ai suoi genitori di non voler sposare Salih. Kemal ha il sospetto che Zeynep stia vedendo un altro ragazzo, ma lei nega categoricamente. Dopo, l'ingegnere ha uno scontro acceso con Tariq, quest'ultimo Gili, intima di stare alla larga, dicendo che è lui a dover proteggere la sorella. Nel frattempo, Zeynep chiama di nascosto Emir, e Niyan vede il nome di lui sul cellulare del marito quando squilla. La pittrice affronta Emir con tono aspro, mentre Kemal è convinto di avere un vantaggio sul suo rivale. Tuttavia, non sa che Emir, oltre ad aver assunto Tariq, sta anche tentando di conquistare Zeynep. Kemal continua a complottare contro Emir, fiducioso che Zeyr sarà al suo fianco. Nel frattempo, Niyan sta affrontando Zeynep, avendo scoperto che la giovane si vede di nascosto con suo marito. L'artista la avverte. Emir è una persona pericolosa. Tariq, invece, sta camminando con Banu, e sembra chiaramente interessato a lei. Ad un certo punto, incontra Kemal. A quel punto, il soide recapisce che Tariq lavora per il suo rivale e reagisce in modo brusco. Salih è distrutto. Zeynep ha deciso di lasciarlo. Nel frattempo, Kemal prende Onder da parte per confidargli che sospetta che Emir sia dietro il suo recente incidente. L'uomo, temendo che suo genero possa reagire male e mettere in pericolo Niyan, chiede a Kemal di non alimentare ulteriormente queste voci. Emir, invece, sta promettendo a Zeynep che eliminerà tutti gli ostacoli che li tengono lontani. Nel frattempo, Niyan, che ha appena visto suo marito con Zeynep, decide di prendersi del tempo da sola. Quando Emir se ne accorge, va a cercarla a casa di Kemal, ma scopre che non è lì. Kemal sta cercando Niyan, che alla fine trova nella loro caffetteria abituale. Quando Niyan torna a casa, si imbatte in Emir, furioso, che la sta aspettando. Lei gli fa capire che il suo comportamento è un avvertimento. Se non smetterà di molestare Zeynep, lei sparirà dalla sua vita per sempre. Nel frattempo, Kemal, dopo aver osservato da lontano Niyan e Emir parlare nella loro camera da letto, si sfoga con Leila, rivelando di essersi innamorato di nuovo della sua ex. Più tardi, durante la festa di fine anno con i dipendenti a casa di Galip, sia Kemal che Emir cercano un'opportunità per mettere le mani sulle chiavette USB, mentre Niyan e Asu hanno una discussione. Alla fine dell'evento, Kemal viene attaccato dai tirapiedi di Emir, che lo accoltellano. Per fortuna, Niyan arriva in tempo per prestargli soccorso. Terminano così queste anticipazioni. Cosa ne pensi? Scrivilo nei commenti. E se sei curiosa di sapere cosa succederà, scrivi nei commenti «Voglio il continuo» e presto uscirà un nuovo video. Alla prossima!